dunque ci riagganciamo quindi all'esercizio di cui la volta scorsa mercoledì scorso abbiamo fatto la il punto 1 questo esercizio sui sugli hotspot e il punto 2 che veniva richiesto da questo appello era una simulazione quindi questa mattina ci togliamo la voglia di fare simulazioni allora vediamo cosa ci chiedeva questo questo tema ci chiedeva di simulare dei possibili scenari per monitorare lo scambio illegale di file ricordiamoci che il database parlava di hotspot wifi in cui si poteva collegare i vari punti della città dice che la simulazione deve essere condotta sul numero di 100 giorni quindi ci dà già un asse dei tempi la cui scala del giorno e vandrà da 1 a 100 in certo senso non importa quali siano questi giorni non ci serve collegare un calendario vero e proprio in ciascun giorno è possibile che venga condiviso un file illegale con una certa probabilità p che è un valore inserito dall'utente il p inserito dall'utente ce l'abbiamo qua abbiamo una casa di testo attraverso il quale l'utente può inserire questo valore che ovviamente è un parametro di input della simulazione mentre con la probabilità complementare non si condividerà nessun file nessun nuovo file quindi sui 100 giorni ci sono i giorni in cui si condivide qualcosa giorni in cui non si condivide nulla nel caso in cui tal giorno avvenga la condivisione di un nuovo file di un nuovo file questo viene pubblicato in uno degli NTA presenti nel grafo selezionato casualmente qui dice casualmente senza specificare oltre quindi possiamo immaginare che sia una certa uniforme casualmente in modo uniforme non con una probabilità diversa per i vari NTA un file condiviso viene rimosso automaticamente dalla piattaforma di condivisione dopo una durata di di giorni che è l'altro valore che l'utente può inserire quindi io condivido un nuovo file questo file rimane condiviso per tre giorni poi dopo lo tolgo questo è ciò che avviene come diciamo così evento esterno una volta che un file è condiviso in un NTA qui parte la simulazione vera e propria nel giorno successivo esso risulterà ricondiviso anche in uno degli NTA confinanti ricordiamoci che gli NTA per noi sono i vertici del grafo in particolare in quello singolare con il peso più alto prescato però tra gli adiacenti che non abbiano attualmente alcun file condiviso quindi io sono un NTA in cui ieri è stato condiviso un file oggi questo stesso file verrà condiviso in uno degli NTA adiacenti però devo andare a vedere tra quelli che non hanno ancora non stanno ancora condividendo nessun file qual è quello che abbia il peso più alto peso intendiamo molto probabilmente l'arco che collega questo NTA con i miei vicini perché il vertice non ha un peso il peso ce l'abbiamo sull'arco quindi qui non è scritto benissimo non è il peso dell'NTA confinante ma è il peso dell'arco che mi porta all'NTA confinante le pesi che avevamo calcolato nel punto 1 che erano questi numeri interi qua 4 3 2 eccetera la durata di condivisione della NTA confinante sarà pari alla metà della durata della condivisione iniziale quindi se inizialmente c'era una condivisione 10 giorni la ricondivisione sarà online per 5 giorni e così via in ogni giornata simulata occorrerà applicare la regola B cioè condivisione di nuovo file per l'eventuale creazione di nuovi file condivisi e la regola C per ogni file già condiviso compresi quelli ricondivisi nei passaggi precedenti qui non sta aggiungendo nulla di nuovo sta semplicemente dicendo guarda che queste due cose sono attive contemporaneamente quindi ogni giorno eventualmente ricondividi qualcosa di nuovo in un NTA e per ciascuna delle cose che sono naturalmente condivise la ricondividerai in un NTA adiacente con una durata diciamo dimezzata pertanto la simulazione gestisce la condivisione di nuovi file e la propagazione di quelli precedentemente creati la propagazione è disegnata a esaurirsi in quanto ad ogni passo il valore della durata è dimezzato cioè questo punto D non aggiunge nulla spiega solo meglio, ci aiuta a capire meglio i punti precedenti poi al termine della simulazione si stampi l'elenco dell'identità del grafo con il numero di file che sono stati condivisi o ricondivisi in ciascuno di tali vertici quanti file sono passati da lì quindi quali sono, il tempo è facile da 1 a 100 quali sono gli eventi che stiamo gestendo? beh secondo me stiamo gestendo l'evento di prima condivisione di un file l'evento di ricondivisione di un file e l'evento di smessa di, non so come dire in italiano termine della condivisione di un file lo scondividiamo, non lo condividiamo più dopo un certo tempo quindi immaginiamo il primo evento il primo evento è quello della condivisione iniziale potremmo eventualmente precalcolarli all'avvio della simulazione perché non dipendono da nulla dipendono solamente da una probabilità esogena, esterna quindi all'inizio della simulazione io andrò a iniettare un certo numero di eventi di condivisione di file scegliendo a caso un NTA e con durata D quindi sicuramente l'evento dovrà tenere presente sia dell'NTA in cui vengono condivise le cose sia della durata perché questa durata non è una costante perché nelle ricondivisioni questa durata sarà più bassa e poi C sulle ricondivisioni ogni volta dovrò andare a considerare tutti i file già condivisi e ricondividere per la durata successiva quindi cosa vuol dire? che quando io inserisco una nuova condivisione in un certo NTA al giorno 5 io dovrò in qualche modo predisporre due nuovi eventi come elaborazione della nuova condivisione uno è il fatto che quel film viene ricondiviso al giorno 6 in uno dei miei vicini e che il giorno 5 più 10 o 15 se di fosse 10 viene smesso di condividere di essere condiviso e così via quindi vuol dire che il giorno 6 io mi troverò l'evento di ricondividi questo file sui miei vicini e a loro volta verranno ricondivisi e così via fin tanto che qui bisogna poi capire come lo vogliamo gestire nella simulazione fin tanto che il file è condiviso dal primo NTA di partenza questo ad ogni giorno successivo viene ricondiviso io lo dico così questo testo cioè finché è condiviso ogni giorno viene ricondiviso sui suoi vicini non solamente la prima volta questa frase qua è un po' ogni volta in cui fai il condiviso il giorno successivo voi come lo leggete? un giorno una volta sola oppure ogni giorno successivo? e cosa cambia? cambia il significato che diamo il valore di se io sono condiviso per 10 giorni cosa succede in questi 10 giorni? può essere usato in due modi questo dato il testo non è chiarissimo possiamo scegliere magari quella che è più semplice per noi un modo di leggerlo è di dire ok tu le condiviso oggi lo ricondivido domani e basta poi però per 10 giorni mi ricordo che io sto già condividendo qualcosa e quindi non posso essere obiettivo target di una condivisione ulteriore di una ricondivisione ulteriore c'è questo vincolo qua che se sto ancora condividendo non vengo considerato tra gli adecenti che possono ricondividere questa è una possibilità forse la più semplice l'altra è quindi ogni giorno in cui sono condiviso sto ricondividendo che ovviamente è più complicato perché avrò più eventi di condivisione anzi ne avrò forse fin troppi perché poi alla fine si ripropagano a loro volta allora noi probabilmente la più semplice è la prima che ho detto cioè visto che insomma come sempre in un testo ci sono delle zone diciamo così di ambiguità cerchiamo di scegliere sempre al nostro vantaggio per semplificarci la vita questo è anche un motivo per cui nel punto 2 non vi riusciamo a dare le soluzioni possibili perché essendo problemi che in qualche modo si prestano sempre a un pochino di margine di interpretazione non c'è una soluzione unica ma va bene ma nel punto B sì cioè quando dice per ogni fai cioè si usa la regola C per ogni fai già condiviso compresi quelli di condiviso questo secondo me vuol dire che ma no io se usiamo l'interpretazione 1 cioè quella che dicevo lo ricondivido una sola volta vuol dire che io lo condivido nel primo NTA il giorno dopo nel secondo poi però il giorno dopo ancora lo condivido nei vicini del secondo una volta sola sì sì però non più dal primo il primo pur essendo ancora condiviso non sta facendo la catena cioè non sta ripropagando nei vicini quella era un'opzione quindi per chiarirci le idee noi abbiamo che abbiamo un evento che fai condiviso file in un nuovo nuovo file condiviso in un NTA al giorno al tempo T poi abbiamo che al tempo T più 1 poi dobbiamo trasformare queste cose in eventi no? di scegliere quale oggetto evento creare al tempo T più 1 è ricondivido il file in uno degli NTA adiacenti chiamiamolo NTA casuale 1 chiamiamolo ad 1 con la regola del massimo tra quelli non ancora attuali due punti NTA 2 poi al tempo T più 2 ricondivido il file in uno degli NTA adiacenti a 2 no? e così via con una durata chiaramente sempre dimezzata quindi provando a ragionare ad eventi a me sembra che possiamo forse fare in modo che questo evento di nuovo file condiviso e l'evento di file ricondiviso forse si comportano nello stesso modo perché l'evento cosa avrà? io so che avviene un certo tempo T avverrà in un certo NTA e avverrà in un certo e avrà una certa durata di questo è l'evento che mi dice c'è una nuova condivisione una volta che ho una nuova condivisione per creare una ricondivisione creerò un altro evento di questo genere qua quando so che al tempo quando ho processo questo evento qua che al tempo T è stato condiviso un nuovo file io mi creo un nuovo evento in cui al tempo successivo o scelgo l'NTA in cui propagarlo e calcolo la durata cioè la metà di quella che ho ricevuto io e quindi va avanti così quindi non mi servono due tipi di eventi diversi per la nuova condivisione e per la ricondivisione e poi avrò un altro evento che invece è non condividi più quindi evento nuova condivisione nuova o ricondivisione vabbè poi l'italiano lo corrego l'altro evento invece è termina la condivisione e quindi devo sapere a quale tempo terminarla su quale NTA stavo condividendo e non voglio più condividere e basta in realtà la durata non mi serve più io so che a quel tempo devo smettere quell'NTA deve smettere di condividere il file ok quindi questo possiamo chiamarlo come evento lo possiamo chiamare share e questo lo possiamo chiamare stop guardando poi è possibile che un determinato NTA in un certo momento stia condividendo più di un file perché questo evento termina la condivisione mi dice guarda che in quell'NTA stavi condividendo qualcosa adesso smetti di condividerla quindi il fatto di smettere di condividere significa che diventi di nuovo un potenziale ricondivisore in certo senso però io devo tenere conto che un NTA possa condividere un file oppure due oppure tre e quindi quando dico termina la condivisione non è un booleano sto condividendo o no ma devo tenere conto di quanti stanno condividendo allora la regola del punto C mi dice che io posso fare un evento di share solamente su un NTA che attualmente non ha niente ok però la regola non mi mette dei vincoli perché dice in uno delle NTA presenti nel grafo selezionato casualmente quindi non c'è nulla che mi impedisce di condividere qualche cosa di nuovo in un NTA che già sta condividendo qualcosa o sta ricondividendo qualcosa e non solo qua sembra che nel punto C io non possa mai ricondividere due file diversi sullo stesso NTA in realtà è possibile perché al tempo T io sono su un certo NTA e ho il mio vicino e scelgo il mio vicino che al tempo T più uno ricondividerà ma al tempo T magari ho un altro NTA da un'altra parte nel grafo che anche lui sceglie di ricondividere su quel suo secondo NTA che in questo momento è libero perché siamo al tempo T e quindi io avrò due eventi al tempo T più uno che dicono questo futuro NTA che finora al tempo T era libero al tempo T più uno dovrà condividere due volte due file diversi provenienti da due vertici diversi perché qua stiamo valutando qual è quello col peso più alto tra gli recenti che non abbiano attualmente alcun file condiviso al tempo T ma lui comincerà a condividere al tempo dopo quindi in qualche modo ci sono più nodi che in parallelo stanno valutando parallelo simulato al stesso tempo T che stanno valutando verso chi andare verso chi ricondividere se non mettiamo nessun blocco ulteriore del tipo al tempo T più uno quando estraggo l'evento se per caso sto già condividendo il secondo lo perdo lo butto via però non mi sembra che sia previsto qua allora devo tener conto che posso condividere più di uno allora vuol dire che nel mio stato del sistema non dovrò solo tener conto se un NTA sta condividendo o no ma quanto sta condividendo quanti file in questo momento sta condividendo è un numero intero non è solamente un booleano ok ok quindi questo proviamo a tradurlo in classi quindi abbiamo la nostra classe simulatore dentro il package modello ok dove allora proviamo a pensare alle variabili principali allora le variabili principali sono i parametri di simulazione di input sono ovviamente ce lo dice il testo la probabilità private double p non mi piace chiamarla solamente p diciamo così probabilità di share se no p ci perdiamo subito cosa che significa e poi abbiamo un intero un intero che rappresenta la durata e questi sono i due che vengono impostati dall'esterno scelti dall'utente poi abbiamo lo stato del sistema che sarà sicuramente il grafo che era andiamo a vedere come l'avamo dichiarato nel modello il grafo no hotspot modello ho cliccato il punto sbagliato questo qua copia ci lo mettiamo nel simulatore che dovremmo interrogare sicuramente e poi dobbiamo sapere quali sono gli NTA che stanno condividendo e quanto al di là degli eventi che stanno avvenendo in un certo istante di tempo da che cosa è caratterizzato il mio sistema dalle condivisioni attualmente attive e poi gli eventi che mi diranno quali condivisioni in futuro arriveranno e quali invece verranno spente quindi è qualcosa che per ogni NTA mi dice un numero quindi potrebbe essere una mappa che mi mappa gli NTA su integer number of share inizialmente tutti saranno a zero condivisioni poi man mano che arrivano gli eventi passano a 1 2 3 poi poteranno tornare tendenzialmente torneranno a zero poi abbiamo l'output allora cosa ci chiede del testo alla fine dobbiamo dire alla fine dobbiamo dire l'elenco dell'iniziativa del grafo vabbè con il numero di file che sono stati condivisi o ricondivisi in ciascuno dei vertici quindi anche qui un altro contatore ma a differenza del num share che si incrementa ma poi si decrementa perché mi dice quanti file sto attualmente condividendo io ho bisogno di un'altra mappa dello stesso tipo che contenga invece il numero totale di share che vado solamente a incrementare tutte le volte che c'è una nuova condivisione e poi l'ultimo quanto diciamo del totale del numero di file condivisi in quella NTA e poi abbiamo ovviamente la coda degli eventi che abbiamo visto a questo punto mi creo la classe evento potrebbe essere public public enum event type abbiamo detto che forse ci bastano due tipi di eventi che è uno share e l'altro stop e le proprietà dell'evento sono il tempo che ci basta un numero intero l'NTA verso cui verrà condiviso e poi la durata la durata residua ok quindi completiamo l'evento sì il tipo certo grazie ok completiamo l'evento allora il costruttore i getter i getter e setter anzi solo i getter e poi e poi il confronto quindi implements comparable event e facciamo implementare il compare perché questo punto è semplicemente sono due interi quindi possiamo fare other.time other.time meno this.time this meno other scura adesso è crescente ok quindi questa è la classe evento ah no poi deve finire equals ashtable le facciamo mettere ascode equals che ma non ci servono per il momento andiamo a perdere ok torniamo al simulatore a questo punto possiamo definire la coda private priority queue di event ok allora i soliti metodi del simulatore il primo è il costruttore il costruttore deve solamente ricevere come parametri direi la probabilità di condivisione è la durata della condivisione che sono i due parametri che arrivano da fuori e anche il grafo grazie vabbè aggiungiamola virgola virgola poi poi già che ci siamo nel costruttore possiamo inizializzare le varie strutture dati oppure nel metodo init facciamo nel metodo init così se dovessimo chiamarlo più volte abbiamo abbiamo metodo void di inizializzazione in cui devo popolare le strutture dati che mi servono a zerare o risettare tutte le variabili allora grafo ce l'ho mi è stato dato in creazione number of share number of total share invece devo costruire delle mappe nuove pieni di zeri ok quindi creerò number of share una nuova hash map nti integer vuota la stessa cosa l'altra mappa ovviamente è una mappa diversa ma dello stesso tipo e le riempio di zeri prendo tutti i vertici del grafo nta n di this.grafo punto vertex set per tutti i vertici del grafo aggiungerò nella mappa this.numshare punto put per quell'nta zero e la stessa cosa nell'altra mappa poi ho alto da inizializzare allora grafo no numshare ho inizializzato tot share ho inizializzato la quota devo crearla e poi dovrò popolarla this.q uguale new priority q di event è vuota adesso quindi abbiamo le strutture dati che rappresentano lo stato iniziale del sistema nulla nessuno sta condividendo nulla e non ci sono eventi da elaborare adesso creo gli eventi iniziali quindi in ogni giorno dei 100 giorni permessi e facciamo un ciclo t che va da zero da uno t minore uguale a 100 t più più decidete voi se vogliamo contare da zero o da uno dai continuiamo da zero è più facile sono sempre 100 giorni da zero 99 in uno di questi giorni può non succedere nulla oppure succedere qualcosa non succedere nulla in funzione del numero casuale io ho una certa probabilità estraggo il numero casuale se questa probabilità è dello che ne so zero due se questo numero casuale sarà minore di zero due vuol dire che sono dentro la probabilità altrimenti è maggiore quindi se il numero casuale è minore o uguale alla probabilità allora devo condividere in questa giornata altrimenti no ok devo condividere quindi dovrò schedulare punto q punto add un nuovo evento un nuovo evento di tipo di tipo share il secondo parametro era il non mi ricordo time nta duration il time è t l'nta dobbiamo deciderlo e la duration è dis punto duration share perché la durata è la condivisione iniziale questa nta qua dobbiamo estrarre a caso un vertice del grafo qualunque senza nessun criterio particolare allora per farlo potremmo estrarre un numero casuale tra zero e il numero di vertici e il problema è che i vertici sono in un set e quindi quando mi dicono dammi il vertice numero 27 io non so qual è perché un set non è ordinato quindi allo scopo di diciamo così estrarre diciamo facilitarsi l'estrazione casuale converrebbe prendere i vertici del grafo e metterli anche in una lista in un ordine arbitrario così come viene non importa e così almeno posso indirizzare ciascun elemento della lista quindi solo per facilitarmi il lavoro e lo creo una volta per tutte perché è inutile rifarlo n volte quindi come stato del sistema posso anche avere semplicemente una lista di NTA chiamalo vertici che posso creare all'inizio insieme a tutte queste inizializzazioni precedenti avrò dis.vertici uguale new array list partendo da dis.grafo.vertexset avendoli in una lista li posso indicizzare quindi prendiamo l'NTA numero n estraendo un numero random mat.random da 0 al numero di vertici sta roba qua la converte in intero quindi qua n è un numero casuale tra 0 e il numero di vertici meno 1 e quindi posso usarlo facilmente per andare a stare nell'NTA specifico dall'interno della lista dei vertici quindi dis.vertici.get n e così popolo la lista iniziale dopodiché possiamo divertirci a fare la simulazione e nel metodo run aspetta ho capito l'errore perché sono fuori della parenti di grafa sbagliata ok nel metodo run sarà la tipica cosa in cui elaboriamo la coda while not this punto q punto is empty estraiamo un evento punto q punto pol e poi elaboro questo evento qua il testo in realtà mi dice anche un'altra cosa al termine di simulazione ovvero la fine del giorno 100 quindi questo mi dice che se ci fossero ancora degli eventi in sospeso per il giorno 101 102 103 che sono tipicamente eventi di stop lui mi dice di non considerare non fare andare avanti la simulazione oltre il giorno 100 quindi io potrei aggiungerlo in più come controllo normalmente ovviamente se la coda si esaurisce si esaurisce la simulazione finisce si dovesse esaurire prima è possibile magari negli eventi iniziali li abbiamo messi tutti nei primi dieci giorni perché random ha voluto così e quindi magari si sono esauriti tutti prima del centrimo giorno allora la coda si asciuga la simulazione finisce se invece la coda ancora roba dentro però abbiamo superato il giorno 100 noi siamo legittimati dallo stoppare la simulazione quindi potremmo subito verificare che se e.getType type time fosse maggiore di 100 maggiore o uguale a 100 perché noi siamo abbiamo creato da 0,99 i giorni allora posso uscire da questo while e terminare la simulazione primo evento che estrago con un tempo maggiore del 100 dal centoesimo giorno in avanti mi posso fermare gli eventi rimanenti non li elaboro altrimenti andiamo avanti io come sempre come comodo mi estrago i pezzi di evento quindi time uguale e.getTime poi il sarà la duration se c'è e.getDuration e poi l'NTA e.getNTA che non è un int ovviamente è un int allora a questo punto possiamo fare lo switch sul tipo di evento e ho due casi che sono share e che sono stop allora facciamo facciamo lo stop che è facile nel caso dello stop semplicemente mi dicono che quel NTA non sta più condividendo quel file che aveva in precedenza condivido quindi devo semplicemente decrementare il numero di file condivisi da quello specifico NTA e basta e non generare nessun evento nuovo devo aggiornare semplicemente lo stato del sistema per ricordarsi che adesso quell'NTA che è nello stato non sta più condividendo quindi abbiamo this punto non share che è la mappa che mi dice chi sta condividendo cose in ogni momento put sostituiamo nell'NTA attuale il valore che aveva get NTA meno 1 allora qua se non abbiamo se non facciamo casini altrove non deve mai scendere sotto lo 0 no? si può essere più di 1 si può essere più di 1 si perché come dicevamo guarda quando abbiamo lo vediamo sopra scusami tornato quando io vado a mettere questa condivisione qui aggiungo un evento al tempo T su un vertice a caso non c'è nulla che mi impedisca di prendere lo stesso vertice 2-3 giorni di fila consecutivi la ricondivisione però potrebbe capitare perché se io ho A che al tempo T sceglie di ricondividere su B che è un suo vicino al tempo T più 1 ok? ho condiviso su A quando processo l'evento di condivisione di A scelgo un suo vicino che in quel momento non stia condividendo poi magari ho un altro vertice C sempre che ha il tempo T che tra i suoi vicini ha anche lui B e quando va a vedere i suoi vicini B non sta ancora condividendo perché sono al tempo T quindi può capitare che mi arrivano due richieste di condivisione entrambi da applicare al tempo T più 1 non si parlano tra di loro i vari nodi per dire guarda io ho già scelto lui come mio successore come mio ricondivisore quindi non farlo più tu quindi può capitare speriamo poco ma può capitare ok allora tutto il lavoro a questo punto non ci rimane che fare nel caso dello share dove allora mi dicono guarda che stai condividendo un nuovo file in questo NTA quindi la prima cosa che devo fare è ricordarmi segnarmi che questo NTA adesso sta condividendo un file in più quindi esatto complementare dell'altro e smetti di condividere dopo una certa durata quindi creiamo un evento di stop al tempo time più duration di questo NTA e poi a sua volta il campo duration mettiamo uno zero qualunque valore e tanto non serve il campo di duration per l'evento di stop ok quindi evento di ingresso inizio a condividere e mi segno che dovrò smettere di condividere a un certo tempo proviamo a vedere qualcosa adesso prima di fare la parte complicata a vedere se questa il primo debug di questa parte qua mettiamo solo una print poi vediamo cosa succede in cui stampiamo il tipo più il tempo dell'NTA il codice e agganciamo sta roba qua al al modello e al controller così riusciamo a vedere cosa succede quindi aggiungiamo un metodo nel model simula che riceve come parametri il probabilità di share e la duration dello share e poi facciamo simulator sim uguale new simulator dis.grafo probabilità di share probabilità della duration dello share gli passo quello che è uscito dal controller sim.init sim.run e per farlo lanciare andiamo ancora sul controller e il do simula estraiamo i vari valori per ora lo faccio senza controlli così facciamo in fretta poi li aggiungiamo con calma devo avere un double che è la probabilità e la estraggo da txt probabilità parsificando il testo il testo e l'int la durata txt duration durata punto get text e quindi posso un punto model punto simula ho ancora salvato il modello perché non me lo vede model 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 perché ho scritto private public perché ero scritto con la maiuscola s perché ero di mattina la risposta ma prob distrib duration s minuscola ok qui sono andato a fare tutti i try catch per le conversioni per il controllo che non sia nullo eccetera ma proviamo a vedere se ci parte allora scelgo uno di questi crea il grafo degli archi probabilità 0,5 durata 10 simula allora per ora steppiamo solamente sulla console stiamo dicendo che al tempo 0 facciamo la condivisione su C5 al tempo 1 su C24 al tempo 2 al tempo 3 al tempo 5 vedete che abbiamo saltato il 4 stiamo saltando il 7 questo è il random che lavora in teoria dovremmo avere 50 in media 50 e 20 visto che abbiamo messo probabilità 0,5 e poi abbiamo l'evento di stop al tempo 10 di ciò che avevamo condiviso al tempo 0 su C05 e quindi va avanti così al C14 al tempo 43 immagino che al tempo 33 stavo condividendo sul 14 ok quindi questa parte qua non mi ha dato eccezioni e sembra che semplicemente l'ingresso e la scadenza della condivisione stiano funzionando adesso ciò che dobbiamo aggiungere è la ricondivisione dove siamo? dentro il simulator la ricondivisione è qua quindi ricondividi allora la prima cosa che devo fare è trovare tra i miei adiacenti qual è l'NTA col peso massimo che non stia in quel momento condividendo ok allora è una cosa che creiamoci una funzioncina per farlo possiamo definire un'NTA nuovo uguale trova NTA a partire da questo trova NTA è ottimistico perché magari non lo trova perché cosa capita se tutti i miei vicini stanno già condividendo il max non esiste perché è un max di un insieme vuoto non si può definire quindi in questo caso non faremo nulla quindi questa trova NTA o mi restituisce l'NTA verso cui condividere se lo trova o altrimenti mi dirà null e io non condivido nulla quindi se però mi trovo qualcosa if nuovo diverso da null allora dovrò ricondividere su questo nuovo allora è facile ricondividere crea un nuovo evento di tipo share nuovo evento di tipo share e che parametri avrà che tempo avrà time più uno domani condividerò su questo il secondo parametro era l'NTA quello nuovo il terzo parametro è la durata per cui questo nuovo dovrà condividere che il terzo mi dice deve essere dimezzata rispetto alla mia durata diviso due un'altra cosa che dobbiamo fare scusate ho dimenticato di farlo prima quando arriva share tenere conto anche del num total share incrementare anche quell'altro se no ce la diamo sempre a zero quindi il num share si incrementa quando faccio uno share e si decrementa quando faccio uno stop il total share invece si incrementa quando faccio uno share e si incrementa e basta quindi adesso la grana semplicemente va a finire dentro questo metodino prova NTA che deve andare a analizzare il grafo vabbè facciamo questo metodo prova NTA private NTA trova NTA a partire da NTA di partenza cosa devo fare devo partire da ogni da questa NTA trovare i suoi adiacenti e trovare quello con peso massimo tra quelli vicini quindi gli adiacenti li trovo ciclando su che cosa for NTA vicini e allora ho bisogno del peso dell'arco per calcolare il massimo e ho anche bisogno dell'NTA destinazione perché è quello che mi dirà l'informazione sull'NTA destinazione a parte che è il valore che devo restituire ma mi dice anche qual è il numero di condivisione che attualmente ha e deve essere zero quindi io posso navigare sugli archi adiacenti quindi for default weighted edge e che sono this punto grafo punto name get edges get outgoing edges of eccolo qua gli archi uscenti da un determinato vertice quindi questo mi cicla sugli archi uscenti o semplicemente anche su tutti gli archi tanto se in caso il grafo fosse non orientato questo grafo è non orientato quindi è uguale quindi per ogni arco vado a vedere il suo peso e vado a vedere il l'NTA destinazione il vicino ok quindi NTA vicino che cos'è è graphs punto get opposite vertex rispetto attraversando quest'arco rispetto all'identità di partenza crediamoci che l'arco non sappiamo mai come è girato quindi per trovare il vertice opposto c'è questo metodino qua e il peso sarà invece this punto graph punto get edge weight dell'arco e troncato intero perché noi sappiamo che sono interi questo semplicemente mi trovo i pesi gli archi vicini i vertici vicini e i pesi relativi di sta roba qua devo fare un calco di minimo massimo massimo minimo massimo vero peso più alto il massimo quindi partiamo da 0 anzi da meno 1 non si sa mai e invece nta best uguale null alla fine ritornerò il best e il best lo vado a confrontare se il peso attuale è maggiore di max allora max uguale peso e best uguale vicino eh no ferma and il vicino non sta condividendo quindi this.numshare.get di vicino uguale a 0 cioè se è un arco di un buon peso e porta un vicino che in questo momento non sta condividendo ok è il mio candidato sembra che sia tutto allora anche qua vediamo cosa abbiamo fatto fare condividi 4 nel 7 5 6 7 7 cominciano a cadere cose in parallelo perché abbiamo in realtà abbiamo un evento solo che fa due cose quindi gli eventi iniziali non riusciamo a distinguere dagli eventi di ricondivisione potremmo distinguere se stampassimo anche la durata dai così almeno vediamo cosa succede allora dov'è sta print anche la durata 0,5 10 simula ok quindi c'è un problema perché la durata è 0 facciamo 10 ah no ma gli eventi stop è giusto che abbiamo durata 0 ma allora share 0 è 632 durata 10 share 1 è 636 durata 5 ah beh certo mi manca una if perché io sto ricondividendo con durata 0 invece no se la durata è 0 non devo più ricondividere quindi in pratica mi manca un controllo in cui qua prima di dire ok aggiungiamo una nuova durata no questo qua lo stop va bene la ricondivisione ha senso solamente se duration mezzi è diversa da 0 quindi tutta sta roba qua va fatta se duration mezzi è maggiore di 0 così vediamo se è meglio allora è 628 10 poi viene ricondiviso sul 36 con 5 e poi verrà ricondiviso sullo 7 con 2 e a sua volta sul 14 con 1 qui si vede il fenomeno di cui dicevamo prima che sul 14 ci sono che vicino a due altri al tempo 4 verranno ricondivisi due file diversi e così via quindi abbiamo col fatto di 10 10, 5, 2, 1 in 4 diciamo con i giorni si esaurisce la condivisione però ad esempio noi avevamo SI28 che condivideva e vediamo che non c'è nessun 28 nel grafo per un bel po' poi ci sarà lo stop del 28 quindi smette di condividere e quindi diventa di nuovo papabile per ricondividere da altri adesso in questo caso non capita il 28 si vede che è in una posizione sfortunata del grafo ok fatto questo non ci rimane che a questo punto stampare il risultato finale e dobbiamo portare fuori dal simulatore poi dal simulatore al modello il il un getter che vada a gettare il num total share questo get num total share mi dà questa mappa che possiamo semplicemente il modello può usare come valore di ritorno per simula e alla fine la simulazione ritorna sim un punto get num total share che è il numerino che serve al controller per stampare il risultato all'utente poi si può stampare sempre in modo più o meno ordinato però noi potremmo salvarci le informazioni sono in questa mappa come la chiamiamo condivisioni e quindi potremo for nta n due punti condivisioni punto get keys keys keyset txtresult punto append e allora ti stampo l'mta quanto ha condiviso quindi abbiamo n punto get nta code più spazio più condivisioni punto get dn e poi un a capo questo viene fuori disordinato perché è un set potremmo mettere in ordine numerico in ordine alfabetico di nta code sono tutte cose che si possono fare con calma vogliamo vedere se il risultato arriva 05 10 simula alla fine l'm dice che s1 18 ha condiviso 18 s45 ha condiviso 10 24 ha condiviso 12 e così via evidentemente tutti hanno condiviso almeno una volta perché non ci sono zeri se prendessimo un altro dominio più grande facessimo una simulazione con bk che ci sono più vertici e quindi il grafo più ampio ci sono effettivamente degli nta che non hanno condiviso nulla perché magari il grafo era grande e le condivisioni abbiamo visto che dopo 4 passaggi col 10 si esauriscono ma se anziché 10 giorni fossero 30 giorni probabilmente gli zeri sarebbero più rari più rari all'interno del grafo vabbè questo solo per vedere che cambiando questo se ha 0,1 una probabilità più bassa di condivisione chiaramente i numeri decresceranno non è una verifica vera e propria però facciamo così qualche esperimento per vedere che effettivamente la simulazione mi porta un risultato nella direzione di quanto mi immagino qui vedete qualche 1 sparuto c'è un 8 strano quasi tutti 0,1 ok quindi questo al di là ci manca ancora di mettere in bella e aggiungere i controlli su questo metodo qua ma per il resto dal punto di vista algoritmico direi che questo esercizio è concluso ci vediamo mercoledì per l'ultimo tema d'esame appunto come dicevo farò quello di settembre se non mi dite invece diversamente che preferite fare uno diverso grazie